Anticipazioni tempesta d'amore, domenica 23 maggio 2021. Rosalie ne ha abbastanza di Michael e si allontana da lui. Per farlo ingelosire flerta con Eric e passa una notte con lui a Monaco. Il dottore il giorno dopo chiarisce ancora una volta che possono essere solo amici. Pranzi e team si godono la felicità ritrovata e non vedono l'ora di sposarsi. I dipendenti del Furstenhoff fanno salti di gioia alla notizia. Christophe e Lucy vengono scelti come testimoni di nozze. Durante una corsa a Mellie si scontra con uno spietato, monta in bike e cade. Maximilian Richer, il nuovo fitness trainer, arriva al Furstenhoff e si accorge subito del mal di schiena della ragazza. Le mostra così alcuni esercizi. La simpatia iniziale però dura poco in quanto la Limbach non ci mette molto a scoprire una scomoda verità. E litiga con il nuovo arrivato. Max afferma di essersi preso un semestre di pausa dall'università e aggiunge di essere felice di aver ottenuto un posto di lavoro al Furstenhoff. Ariane nel frattempo ha in mente di minare alla felicità di Timma e Franzi per provocare immenso dolore al Salfid.